Eh sì, è proprio lui. Il grande muro. Ah che bello. Sono fuori dalle rotte turistiche. Bisogna stare attenti a dove mettere i piedi qui perché appunto è una zona abbandonata. I lati del muro sono poco raccomandabili devo dire. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 . Sì. 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 . Sì. 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 . Sì. 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 so yeah let's climb over here so, let's go ok, cosa c'è qui? questo potrebbe essere il modo o non questo è ovviamente non il modo giusto ora andrò in quella direzione let's go, let's go, let's go this way let's go let's go let's go let's go ok oh yeah nice nice well here the wall it's destroyed but I can still go over there oh yeah here we are not so much plants and vegetation from here on it's already better little bit tricky always but better than before let's go no 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 Sì Sì Sì